Fabrizio Corno oggi compie 30 anni, buone le prestazioni nelle due gare contro Novara e contro Valchisone, ottima la prima un 10-0 meritatissimo, il secondo 3-3 col Valchisone lascia qualche rimpianto. Come hai visto questa partita? Sì, la prima partita era, diciamo, contro una squadra più semplice che non ci ha dato tanti problemi. Nel primo tempo abbiamo fatto fatica ad andare sopra nel marcatore, ma nel secondo tempo siamo entrati più carichi e abbiamo fatto un sacco di gol e abbiamo creato più opportunità. La seconda partita invece è contro una squadra molto giovane, con bravi ragazzi che corrono tanto e sì, ci hanno messo in difficoltà, siamo andati sotto 2-0, ma alla fine siamo riusciti a finire con un pareggio la partita. Per salutare qualcuno in Perù oggi che è il tuo compleanno? Eh beh, salutare a tutti i miei familiari e amici che mi hanno fatto gli auguri per oggi e niente, grazie a tutti per farmi passare una buona giornata. Grazie a te.